ciao benvenuti nella meditazione di oggi continuiamo la serie di meditazioni sul respiro consapevole lavoreremo sulla respirazione sulla pancia percepire il respiro nella pancia ci permette di placare il sistema nervoso e ad aiutarci a realizzare il nostro potenziale in questa pratica troveremo un modo per rilassare l'addome e ci permetterà quindi di abbassare il nostro livello di stress tensione o rabbia cominciamo posizionati in una seduta comoda iniziamo percependo l'aria posteriore del tuo corpo appoggiata su di una superficie inizia a rilassare il peso del corpo verso terra mentre rilassi il peso sempre di più osserva quanto immobile e radicato può rimanere stando seduto ammorbidisci ora il petto le spalle e il viso dolcemente inizia a scannerizzare il tuo corpo comincia dalla pianta dei piedi e sali fino alla cima della testa mentre continui a scannerizzarti riesci a rilassare ogni parte del tuo corpo che si sente tesa forse tra le scapole o nella zona lombare o forse nei muscoli del viso mentre tieni gli occhi chiusi inizia ad ascoltare con attenzione i tuoi respiri portare attenzione al respiro non significa fermare ogni singolo respiro ma seguiamo da vicino ogni ispirazione ed ispirazione se osserviamo il nostro respiro con curiosità come le sentiamo le nostre ispirazioni e le nostre ispirazioni il respiro fluisce quanto è profondo lungo e ritmato il tuo respiro in quale parte del corpo lo percepisci maggiormente quale parte del corpo si muove di più durante l'ispirazione e l'espirazione dolcemente porta una mano sulla pancia quanto riesce a rilassarla riesce ad espandere la tua pancia e a rilassarla un po' di più puoi percepire le onde all'interno e all'esterno della pancia potrebbe essere la prima volta che provi e potrebbe non essere semplice trovare le sensazioni nel tuo corpo oggi va bene così in questo momento prova solamente a percepire il lieve movimento della pancia sotto la tua mano permetti al tuo respiro di massaggiare dolcemente tutta l'aria dall'addome fino al pavimento pelvico se stai iniziando a percepire le onde del respiro fino nella pancia concediti alcuni istanti di silenzio per goderti questa sensazione nei tuoi respiri ora osserva come ti senti in seguito a questa pausa il rilassamento della pancia e le onde che senti del respiro della pancia hanno cambiato delle sensazioni in alcune parti del tuo corpo quando iniziamo a respirare con il nostro intero corpo come i bambini fanno spesso iniziamo a godere di una pacifica e rinfrescante sensazione durante i momenti stressanti o difficili questo può essere una grande fonte di sollievo per noi e le onde che senti del respiro Grazie a tutti. Quando ti senti pronto, puoi dolcemente aprire gli occhi e iniziare a guardarti intorno. Per il resto della giornata, ricordati di mantenere la pancia più rilassata possibile. Sono felice di averti avuto qui. Ci vediamo alla prossima pratica sulla consapevolezza del respiro.